Nella diciamo convenzionale posizione di comunicazione tra due persone si mantiene una distanza di questo tipo di circa un metro. Ecco come vedete io sto qui tranquillamente parlando e qui il nostro giovane Emanuele è tranquillo, non ha nessun movimento in particolar modo. Se invece adesso ecco io incomincio a andare a una distanza che va da quella normale che abbiamo detto che è sul metro entro appunto anzi 40 cm insomma quindi andiamo oltre l'aspetto per esempio quindi tradizionale andiamo più verso il confidenziale o addirittura oltre 40 cm quindi avvicinandoci di più di fronte al nostro interlocutore. Quindi in una zona che possiamo dire va oltre lo spazio normale tradizionale quasi quindi il suo spazio chiamiamolo intimo tra virgolette vediamo che reazioni ha il suo inconscio. Ecco proviamo. Grazie. 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 Grazie.